Con il cast del cartolaio, dai creatori di Nutella Nutellina, James Cameron l'ha definito The Masterpiece. Joseph era nato così, un ragazzo con dei problemi. Dai Joseph, è ora della pappa. Ora del Joseph. Bravissimo! Manda giù. Aspettate, ma la vuoi un po' di acqua? No! Una famiglia amorosa, pronta ad aiutarlo. Non mi piace! È dronco! Nulla lo rendeva felice. Joseph, vieni anche tu qua con noi. E qua. No Joseph. Vieni con noi. E qua. E quando ogni speranza sembrava ormai persa. Sì. No. No! No. 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 Eh, mi piace la tua musica. Eh, ma come ti chiami? Joseph. Devo imparare a suonare. Siiii. Puoi toccare con me? Pronto? Eh, questo è un don. Siamo pronti. Gara, hai visto Joseph? No, non l'ho visto Joseph. Hai visto Joseph? No, lo sto cercando. Dov'è Joseph? Un dono dal cielo. Joseph! Così? No, non sei qui! Oh, bui di chià! Sei prudissimo. Joseph! E' una che bella, adesso miliardi a palate! Ape!